Benvenuti alla nuova puntata di Competere Non Profit, il format di Competere Journal. Nel corso di questa puntata parleremo della riforma del terzo settore con l'Avvocato Gabriella Noto, Vice Presidente dell'Associazione Studio Legale nel Sociale, al quale diamo il benvenuto. Grazie mille per il vostro benvenuto e per l'invito. Avvocato, che cos'è l'Associazione Studio Legale nel Sociale e qual è la sua mission? La nostra associazione Studio Legale nel Sociale è un'associazione di promozione sociale e il nostro scopo, quello che ci siamo dati con gli associati, è quello di fornire un'assistenza professionale al mondo del terzo settore. Quindi è un'associazione composta da professionisti legali, commercialisti, ma anche professionisti che spaziano in altri ambiti e vuole dare un supporto professionale a tutti coloro che sono interessati a investire nel non-profit. Come viene definito il terzo settore nella nuova riforma? La nuova riforma ha cambiato molto le cose, ovviamente. Ci ha fornito, questo in maniera meritoria, una definizione di terzo settore. Innanzitutto stabilisce quali sono gli enti che fanno parte del mondo nel non-profit e inoltre li definisce dal punto di vista finalistico, come quegli enti che perseguono sostanzialmente degli scopi di interesse generale e degli scopi che hanno un preciso carattere e un preciso fine civico e di utilità sociale. Questo è molto importante perché questa definizione così completa mancava, come sappiamo. Quali sono le maggiori novità a portare da questa riforma? La riforma ha portato molte novità al mondo del non-profit. Innanzitutto la prima novità è quella di avere un codice, quindi un testo organico che ci aiuta moltissimo a orientarci. Prima ricordiamo che la legislazione era assolutamente frammentaria. Le novità più importanti riguardano anche la volontà di coinvolgere comunque le associazioni in dei percorsi condivisi di forte trasparenza, quindi la comunicazione dei bilanci, il modo in cui i soldi vengono spesi. Sì, questo deve avvenire adesso attraverso il web, c'è un utilizzo molto importante infatti del web. Sono anche state riordinate quelle che sono le regole che riguardano i lavoratori, tanto nell'associazione di promozione sociale quanto in altri tipi di associazioni. Ed è cambiato anche il sistema di riconoscimento che adesso è molto più veloce e molto più chiaro. Si abbandona il vecchio tipo concessorio. Infatti come vengono riconosciuti gli enti di terzo settore? Sì, abbiamo abbandonato sostanzialmente il sistema concessorio e uniformato un pochino il sistema di riconoscimento a quello che è tipico delle società. Il tutto avviene molto semplicemente tramite il notario, il quale sostanzialmente controlla gli statuti e invia poi una comunicazione al registro unico. Quindi è molto più semplice e più immediato. Cos'è il registro unico delle associazioni? Il registro unico è una delle grandi novità, sicuramente. Cancellerà quelli che sono circa 300 albi regionali, provinciali. Questo creava naturalmente un grandissimo disordine. E sarà istituito quest'unico registro nazionale, nel quale dovranno essere iscritti tutti gli enti che desiderano far parte del mondo del terzo settore. Chi non è iscritto naturalmente è fuori. Quindi, ed è una cosa importante che ci tengo molto a spiegare sempre, il registro ha un fine dinamico. Dovrà essere aggiornato con quelle che sono le informazioni e con i vari cambiamenti a cui gli enti andranno incontro. Ed è importantissimo per la trasparenza. Si investe molto in fiducia con questa riforma. Quali sono le modifiche che riguardano le organizzazioni di volontariato? Allora, circa le organizzazioni di volontariato, dobbiamo dire che ci sono state fatte delle importanti modifiche. Perché, innanzitutto, viene definito, ancora una volta, in maniera molto chiara, chi è il soggetto volontario. Quindi, il prestatore sostanzialmente di un'opera fatta in maniera assolutamente spontanea e assolutamente gratuita, che non può quindi in nessun modo essere retribuito. Al più, gli possono essere riconosciuti dei piccoli rimborsi. E la riforma spiega questo in maniera finalmente molto chiara. Si stabilisce poi, e questa è una cosa molto importante, che i volontari devono assolutamente essere assicurati nello svolgimento della propria opera, all'interno delle associazioni. Mentre, per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale, ci sono delle differenze? Sono sempre, più che delle differenze, sono state fatte delle riorganizzazioni. Quello che viene detto adesso sulle APS, per esempio, viene stabilito in che proporzione devono esserci lavoratori rispetto ai volontari. E questo è sicuramente interessante. stabilendo poi quelle che sono delle garanzie sempre a tutela dei lavoratori e dei volontari. Quindi il legislatore ci tiene a spiegare che il fatto di lavorare per il non-profit non deve far diminuire le garanzie per il lavoratore, ma anzi, le garanzie non possono essere toccate. Il lavoratore deve essere assicurato, deve essere pagato e retribuito in maniera equa, come se lavorasse per un qualunque tipo di organizzazione profit. Ci sono delle novità apportate anche per quanto riguarda le imprese sociali? Sì, il campo dell'impresa sociale è stato toccato moltissimo. Innanzitutto sappiamo chiaramente che adesso le imprese sociali hanno delle retrazioni e queste retrazioni vengono specificate. La legge del 2006, che è la prima legge in materia di impresa sociale, non ha trovato un campo molto fertile in Italia, perché gli imprenditori non riuscivano a capire, a fronte del loro diventare imprenditori sociali, quali vantaggi ne avessero. Invece il codice questo lo chiarisce, quindi sappiamo che chi investe come imprenditore sociale adesso ha diritto a tante retrazioni. Ed è molto importante poi il modo in cui la riforma coinvolge i territori di riferimento. Quindi l'impresa sociale diventa davvero un polo che vuole non soltanto unire enti di terzo settore sul territorio, ma coinvolgere i lavoratori nella gestione e nella politica d'impresa, coinvolgere il territorio e creare valore sociale. Questo è importantissimo. Quindi è un'impresa che in nessun modo produce profitto, o meglio non produce solo profitto e non solo profitto economico, ma un profitto che è valutabile in termini di impatto sociale sul territorio di riferimento. Questa è una grande novità, è una cosa molto importante e molto bella, perché è un'alternativa economica al sistema attuale. Gli enti di terzo settore si compongono di volontari che svolgono le loro attività all'interno delle stesse, ma hanno diritto a qualche rimborso? Sì, questa è una bella domanda, perché è un problema reale e sentito all'interno delle associazioni. All'interno delle nostre associazioni abbiamo anche i volontari, che sono, come spiegavo prima, delle persone che scelgono di prestare la loro opera in maniera spontanea e assolutamente gratuita, inquadrate in un apposito registro e lo statuto deve prevedere la possibilità di avere dei volontari. Queste sono cose importantissime. Il volontario non può essere retribuito, ma oggi il codice ci dice che può avere un rimborso spese, che può essere o di 10 euro quotidiani, oppure può essere fino a 150 euro al mese, calcolato in maniera forfettaria, quindi senza produrre tutti quegli scontrini, bolle di accompagnamento che prima erano necessarie. Quindi fino a 150 euro al mese abbiamo dei rimborsi forfettari, poi è necessario continuare a collezionare gli scontrini per dimostrare che sono state delle spese effettuate nello svolgimento delle attività e degli interventi fatti per l'associazione. La riforma del terzo settore è attiva a pieno regime o attende ancora dei decreti attuativi? La strada è ancora un po' lunga. Attualmente sono stati già portati avanti tanti decreti attuativi, abbiamo avuto un primo blocco approvato a maggio e adesso importantissimi altri a settembre. Quindi sicuramente siamo a buon punto e tanti aspetti sono stati chiariti, delle cose sono state corrette. C'è ancora da fare. Innanzitutto attendiamo la sistematizzazione del registro unico nazionale, che è importantissima, perché se non ci sarà detto esattamente nel dettaglio come funziona il registro, in quale modo le organizzazioni devono adeguare gli statuti, sarà difficile operativamente procedere. Quindi questa è una prima cosa. Sicuramente poi mancano ancora dei dettagli che devono arrivare, per esempio, al Ministero del Lavoro, per quanto riguarda le assicurazioni per lavoratori e volontari, in che modo dovranno essere organizzate. E ancora, per quanto riguarda anche le diverse attività che l'impresa sociale può svolgere, come devono essere qualificate, perché dalla qualifica delle attività dipendono una serie di detrazioni e agevolazioni fiscali. Quindi c'è ancora da fare, però è anche vero che tanto è stato fatto e parliamo di una macro-riforma, perché tantissimi testi di legge sono stati emendati e consultati per poter scrivere sia il codice del terzo settore, sia gli altri decreti legislativi che lo accompagnano, quindi quello sull'impresa sociale. Non dimentichiamo quello sul servizio civile universale, che è anche importantissima, è stata una grande opera legislativa. Avviandoci alla conclusione, vuole fare un invito ai giovani affinché si avvicinano al mondo del terzo settore? Certo, lo voglio fare questo invito. È importante partecipare ed esserci nel mondo del non-profit, perché innanzitutto è un modo per essere in contatto con una parte molto viva della società civile. È un modo importante e positivo per poter dare un contributo a cambiare l'esistente. Ognuno di noi sicuramente ha delle capacità e ha delle idee di come vorrebbe che il mondo fosse. È un modo veramente per impegnarsi, non solo per lamentarsi, ma per fare qualcosa. E inoltre voglio dire, e questo lo dico da professionista, che è possibile anche cimentarsi con la propria professionalità all'interno del terzo settore, crescere, imparare delle cose, fare curriculum, investendo sia la propria professionalità, ma anche quelle che sono le proprie passioni. Perché in questo mondo, nel mondo del non-profit, non conta soltanto il titolo di studio, ma conta anche quello che si sa fare, i valori in cui si credono, le esperienze di vita che si sono avute nel passato. Quindi partecipatevi, informatevi attraverso i canali web. Ormai ci sono tante pubblicazioni molto interessanti, quindi anche via web si può rimanere informati. E ci sono testate che ci dimostrano di volersi occupare veramente di non-profit. Salutiamo e ringraziamo per essere stata con noi l'Avvocato D'Alghella Noto, il Vice Presidente dell'Associazione Studi Legali e Nel Sociale. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie per essere stato con noi. Grazie per aver guardato il video.